Io sono Alessio, uno dei tanti colleghi in ambito amministrativo precari, in servizio presso l'azienda sanitaria locale Torino 4 dall'autunno del 2020. Assunto per la campagna vaccinale, soprattutto in prima linea anche con i colleghi sanitari, dall'autunno del 2020. A fronte di un contratto di 36 ore settimanali, come consuetudine del pubblico, affrontavamo turni anche da 60-70 ore settimanali, appunto quindi 7 giorni. E quando era il momento di raggiungere gli obiettivi regionali, giustamente per affrontare la crisi sanitaria, quindi nel periodo soprattutto delle 500.000 vaccinazioni al giorno, si procedeva a ritmi serrati, compromesse, tutto ciò che ci si aspetta soprattutto a questa età, in un impegno così, di questa portata nello Stato. Adesso sappiamo, siamo tutti qui per lo stesso motivo, siamo amareggiati, amareggiati, soprattutto amareggiati. Diciamo che ogni azienda sanitaria locale si sta muovendo un po' per quanto proprio perché non si vogliono assumere le responsabilità. Tutti delegano, la regione delega allo Stato, le ASL delegano alla regione e ci troviamo tutti in questa situazione precaria nella precarietà. Questo è.